vi faccio vedere questo libro qua della tomo kofuse dove vi faccio vedere questa sua stella e questa questa è la stella e poi le sue punte da inserire adesso vi faccio vedere questa ci vuole un foglio inquadrato a misura che volete voi per fare questa grande e poi sempre un altro foglio stessa misura della stella diviso 4 per fare gli altri punti dove si incastrano nelle sue tasche vi faccio vedere la stella questa qua prendiamo questo foglio quadrato facciamo le diagonali apriamo il nostro foglio quadrato lo giriamo facciamo la pigliatura del foglio a metà nel centro apriamo anche da questa parte apriamo abbiamo questa figura adesso dobbiamo chiudere in questo modo qua così prendiamo chiudiamo così e viene questa forma così vedete come è chiuso così qui a parte chiusa e qui la parte aperta lo teniamo con la parte chiusa che sta rivolto in alto la parte aperta in basso verso la persona il busto e lo chiediamo così facciamo la parte destra che si va a chiudere a piegare al centro sia da questa parte che di qua così giriamo il foglio uguale qui sempre la punta chiusa e qui dalla parte del toraccio aperta chiudiamo così anche da questa parte così e poi pieghiamo questo su se stesso per fare la piegatura guida e riapriamo apriamo tutto così alziamo e chiudiamo e chiudiamo su se stesso nelle pieghe che abbiamo già fatto così e anche da altra parte apriamo e chiudiamo sulle pieghe fatte così così rimane così piegate adesso solleviamo questo anche se tutto della parte destra e sinistra abbiamo le due queste libere aperte e dove ci sono queste aperte dobbiamo piegare alziamo e pieghiamo così sia da una parte che dall'altra così apriamo alziamo schiacciamo la piega così poi alziamo abbiamo questa figura qua sistemiamo un po' così e così la teniamo adesso dalla parte diciamo dritta alziamo apriamo poi se li spostiamo al centro così anche da questa parte adesso qui dobbiamo aprirlo cioè così dobbiamo appiattire fin quando si apre bene e poi si schiaccia si appiattisce eccolo qui eccolo qui adesso dobbiamo farle queste quattro punte che si inseriscono nelle tasche della stella per fare le quattro punte prendiamo sempre il foglio di ugual misura della stella se questa era 14 questa è 14 ma la pieghiamo in quattro pieghiamo in quattro usiamo una quarta parte della misura base perciò se era 14 usiamo per fare la punta 7 per 7 così quattro poi facciamo la sua diagonale così apriamo pieghiamo così che va sul centro sia da una parte che dall'altra così questo lo alziamo e lo chiudiamo apriamo tutto va messo inserito dentro qui è aperto qui è chiuso e dove è chiuso dobbiamo alzare e impiegare così così e questo è fatto questo modulo finiamo poi un po' così e dobbiamo fare tutti gli altri è uguale diagonale apriamo pieghiamo così questo lo pieghiamo apriamo il tutto questo va qua giriamo dove è chiuso e alziamo i lati e il centro e finiamo il centro così uguale le altre due diagonale apriamo giriamo no alziamo tutto apriamo e sediamo giriamo dove è qui chiuso e tiriamo su così alziamo inseriamo questo chiudiamo si gira si gira dove è parte chiusa e si tira su adesso si prende la nostra stella la giriamo a rovescio qui ci sono le tasche e dobbiamo inserire questa questa a rovescio questa a rovescio le inseriamo nella tasca così apriamo la stella e le inseriamo anche qua così e questo è uguale si inserisce nella tasca nella tasca così e nell'altra tasca è uguale questa per tutte e quattro la tasca si alza si inserisce nella tasca rovescio rovescio inseriamo nella tasca alziamo e inseriamo nella tasca e la stella è fatta eccola qua queste sono le nostre stelle dal libro della Tomo Profuse grazie a tutti Grazie.